ho una ciste all'occhio devo andare dall'oculista speravo fosse un tumore ma nulla ciao a tutti sono Gotts detto Lorenzo mettiamo un po' di musica ho appena acquistato live in Let's Speak The Mayhem l'ultimo dei Dark Throne Arctic Thunder un bel riflesso e c'è Fenris il Mayhem credo sia il primo devo sempre scartare tra l'altro non ho il lettore vinile e una serie di demo di Dark Throne che si sa il black metal più grezzo e più fighetto spostiamoci e purtroppo Ozzy non c'è perché a Querceta Querceta vi dice una sega a voi che è Querceta è da babbo e ora sono da mamma perché devo andare giusto appunto dal dottore questa la dedico a Riot si un po' di musica ci sta e niente che posso dire finita la stagione alla frutta e verdura a S lunga e sono disoccupato sono un vero parassito della società e prendo la disoccupazione bellissimo a gennaio vado a Budapest chi c'è stato? raccontatemi perché se no non ci dormono fatti mani e move your body questo flow banga diecimila raudi applausi scrausi dimmi che gangia usi albanese ammoniacata sicuro che ne abusi stile ma giri come paninari per suonare bene non ci vuole stradi vari strani svari in testa rap militari guerre stellari in bocca a bambaccioni basta e no volevo fare questo video perché mi annoiavo e almeno vedete il mio brutto faccione una volta per tutte come potete vedere sono un grande fan di Kanye West c'è anche il poster qui di graduation i vari cd sono col mac quindi è ancora un problema i vari dvd come potete vedere sono un acquistatore convulsivo questo video è di una noia assurda non l'ho guardato ultimamente l'ultimo di Refn che è una caccata assurda praticamente parla di questa modella sedicenne ma non ha consistenza praticamente è tutto forma è plastica non mi garba tanto preferivo i primi di Refn la trilogia di Pusher credo che sia una delle trilogie più belle in cui la guerra è stellare in cui la signora e gli anelli tra l'altro ce l'ho anche quella in dvd ve la consiglio dovrei smettere di fumare il discorso è quello non mi gado di smettere di fumare però sono ho incominciato a correre da un bel po' un bel po' tre settimane e vedo che non c'ho fiato quindi ho già preso le Winston Blue invece delle Winston Rosse mi sembra di fumare sembra di fumare dell'aria mi sembra e quindi fumò il doppio ah tra l'altro ho preso anche questo fichissimo questo garberà Riot sicuramente Enter the Wu-Tang 36 Chambers è il pop vecchio stile e sempre per la gioia di Riot adesso vi farò vedere un po' di album di One Otrix Point Never questo è un capolavoro questo è un vero capolavoro e poi sempre di One Otrix qua fuori credo da averci Garden of the Elite guarda Riot questa è tanta roba un uovo di arca che credo sia il suo migliore dopo gli stretch oddio ma anche Baron Libre Roberto insomma questo è l'ultimo di OPM sti cazzi direte voi avete ragione e niente lo state vivendo bene il Natale l'atmosfera natalizia io no non mi garba molto il Natale vi devo dire la verità durato fin troppo questo video l'atmosfera io no io no